A Schipas Modena con colonnello Marco Mosso dell'esercito, un giudizio sugli ultimi ingressi all'interno delle squadre invernali? Siamo molto contenti perché siamo riusciti a concretizzare un arruolamento di 12 atleti che è un successo in questo momento per la Forza Armata, per il centro sportivo esercito, ai quali probabilmente si aggiungerà una tredicesima atleta a breve, quindi un lavoro estremamente importante dei nostri tecnici, col grosso sostegno dello stato maggiore esercito, un investimento per il futuro soprattutto nel settore giovanile. La vostra attività che sta diventando sempre di più fondamentale per il proseguio, poi il futuro della stessa attività degli sport invernali, quali obiettivi vi ponete per questa stagione che anche per voi è una stagione cruciale? È una stagione importantissima perché i gruppi sportivi militari tutti lavorano con l'obiettivo del quadriegno olimpico, quindi quest'anno le Olimpiadi in Corea del 2018 sono un momento importante, un momento storico per gli atleti certamente, per la federazione ma anche per il gruppo sportivo. Siamo convinti di aver fatto bene, di aver lavorato bene, di aver sostenuto nel modo adeguato la squadra nazionale italiana, siamo fiduciosi, poi in Olimpiadi è sempre una gara molto particolare, molto complessa dove emergeranno i valori del momento ma insieme a tante altre cose. In un momento in cui lo sport invernale in generale sta cercando di risorgere un po' dalle proprie ceneri, Schipass Modena cosa rappresenta per la vostra attività e poi comunque anche all'interno del quadro nazionale? Beh è un momento importante, Schipass Modena è un evento ormai consolidato che è un appuntamento fisso da molti anni per la federazione italiana sport invernale, per i gruppi sportivi e quindi è un momento di appuntamento diciamo così prima del vero inizio della stagione invernale, a parte questa edizione che capita proprio a cavallo di Selden però è l'ultimo appuntamento prima del via della grande stagione degli sport invernali, quindi è importante perché si incontrano gli atleti, ci si sta tutti insieme, l'occasione per confrontarci anche con le aziende parte, quindi sono momenti importanti, una situazione comunque complessivamente non facile. Grazie mille. Grazie a voi.